Da pochi giorni sono state rese note alcune dati nelle quali si terranno i famigerati test d'ingresso per le facoltà a numero chiuso. Il 5 settembre 2011 si partirà con medicina ed odontoiatria, il 6 settembre vetrinaria, il 7 settembre la facoltà di architettura, infine l'8 settembre professioni sanitarie. Tuttavia, nonostante siano state fissate le date, si attende ancora con molta ansia il decreto che stabilizzerà le nuove modalità di test d'ammissione. Infatti, la Germina aveva promesso dei cambiamenti radicali riguardanti diversi aspetti del test. Come si vince dalle date, il primo cambiamento è già stato mandato in porto, ovvero sarà considerato unico il test per accedere alla facoltà di medicina ed odontoiatria. Altro importante cambiamento riguarderebbe invece le domande di cultura generale. Infatti, il Ministro ha affermato che i test di cultura generale sono scarsamente adeguati al tipo di selezione di cui abbiamo bisogno. Serve più qualità, trasparenza e una valutazione effettiva delle idoneità degli studenti. È urgente sostituirli in tutto o in parte con quesiti di natura logico-deduttiva, che premino soprattutto le capacità di analisi e ragionamento dei candidati. Inoltre, per fronte al crescente numero di abbandoni dovuto all'inadeguatezza della sede rispetto al numero di studenti che la frequentano, il Ministro ha ribadito che per quanto la struttura universitaria debba essere in grado di accogliere il numero totale di richieste, non bisogna dimenticare che il numero di posti nelle varie sedi deve essere rapportato alla disponibilità delle strutture e dei docenti, al fine di garantire agli studenti un percorso universitario davvero di qualità. Da ricordare che nonostante la germinia sia contraria all'abolizione dei test, ha auspicato anche la possibilità della sua validità per più atenei. Cioè, per evitare che ciascun candidato che concorrebbe in una sola sede possa essere escluso dal sistema, anche se con quel punteggio sarebbe entrato in un altro ateneo, si sta valutando la fattibilità di graduatori che comprendano su base regionale almeno due o tre sedi. Ciò che invece non andrà in porto quest'anno è il cosiddetto bonus maturità, che avrebbe concesso ai maturanti collosi di usufruire di un bonus di 10 punti di credito per l'accesso agli atenei a numero chiuso, che andrà invece in vigore l'anno 2012-2013. Beh, non ci resta che aspettare il decreto per saperne di più. Fra poco il numero dei posti, le modalità di emissione e i contenuti delle prove saranno chiarificate.